Prato è forse la città toscana dove la crisi economica ha colpito di più, ma è anche la città che ha saputo mettere in campo numerosi strumenti di sostegno per le famiglie in difficoltà e per chi ha avuto il coraggio di reinventarsi. Ad esempio il Prestito della Speranza, gestito dalla Caritas di Ocesana, una delle tre forme di microcredito presenti a Prato, che prevede finanziamenti di 7500 euro con 12 mesi di preammortamento per chi si trova in situazioni di disagio economico. Sono persone che sono uscite dal processo produttivo a seguito della crisi e il prestito che richiedono gli serve per riprendere il percorso ordinario della propria vita. Per le imprese il riferimento è il Fondo Santo Stefano che aiuta a far avere un credito fino a 25.000 euro. Da maggio 2015 sono stati concessi 13 finanziamenti per un totale di 278.500 euro, mentre dal 2012 a oggi le start-up finanziate sono state 75. Ciò che rende speciale questa forma di microcredito è la presenza di tutor. L'elemento finanziario nella creazione di un'impresa è un elemento molto importante, ma ci siamo accorti che la vicinanza è altrettanto, se non in maniera superiore. Altra forma di microcredito è quella attivata nel 2005 da Cittadinanza Attiva, Microattiva Onlus, frutto della collaborazione tra Caritas e San Vincenzo De Paoli e Delegazione Pratese di Cittadinanza Attiva Toscana, a cui si è aggiunta la misericordia per conto della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura. L'importo massimo è di 5.000 euro da restituire in 5 anni con rimborso a rate mensili. In 10 anni ha erogato quasi un milione di euro rispondendo a 233 domande di finanziamento.